Siamo all'interno della suite di una barberia che stiamo appena montando, ci sono tutti quanti i nostri montatori all'opera e con il contatto diretto azienda-cliente ci prendiamo cura di ogni fase della realizzazione sino al montaggio. Lo facciamo in maniera diretta proprio per offrire un servizio e un prodotto sempre ai massimi livelli.